no vabbè no vabbè questa è la colazione del gesù del gesù peperoncino grotto 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 grottolini biscotti rumeni biscotti rumeni cornetto ungherese con cioccolata albanese ti è ti è guarda qua ti è poi ciambella ciambella messicana ciambella messicana ti è ti è e butta dentro e per finire latte senegalese la colazione del gesù peperoncino no vabbè